Sono ovre governative, quindi le imprese si troveranno gravate di almeno 2-3 mila euro di costi in più. E il risultato è che ogni giorno nel Lazio chiudono i battenti sette negozi e sei aziende del trasporto. Il 2012 sarà un anno molto difficile, è una nuova recessione che colpisce le componenti della domanda interna, in particolare i consumi delle famiglie, gli investimenti e il settore delle costruzioni. Le istituzioni spesso non aiutano le aziende in difficoltà, anzi la Regione Lazio deve alle piccole e medie imprese 13,7 miliardi di euro e il Comune di Roma altri 3 miliardi. Noi avvertiamo da parte delle imprese una voglia di dire la loro, probabilmente perché le istituzioni non l'ascoltano, perché la burocrazia è sempre più pesante.